Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ci rivolgiamo a te, Laura Vicuna. Che la Chiesa ci propone come modello di adolescente, coraggiosa testimone di Cristo. Tu che sei stata docile allo Spirito Santo, e ti sei nutrita di Eucaristia. Concedici la grazia che con fiducia ti domandiamo. Ottienici fede coerente, purezza coraggiosa, fedeltà al dovere quotidiano, fortezza nel vincere le insidie dell'egoismo e del male. Fa che anche la nostra vita, come la tua, sia totalmente aperta alla presenza di Dio, alla fiducia in Maria e all'amore forte e generoso verso gli altri. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amén. Beata Laura Vicua. Pregate per noi.